E' stata un'importante occasione di confronto tra i giovani e il mondo delle imprese del territorio ionico, il convegno organizzato dall'Asformez, ente di formazione accreditato, a conclusione della sessione formativa del corso per tecnici della logistica integrata, finanziato con fondi della provincia di Taranto e della regione Puglia. Il convegno dal titolo Logistica e Trasporti, motore di sviluppo per il cambio di passo del paese, svoltosi a Castellaneta nel centro Lumen Gentium, a cui hanno partecipato gli allievi del corso, ha registrato tra i relatori la presenza dell'onorevole Bartolomeo Giacchino, presidente della consulta ministeriale Trasporti e Logistica, di Sergio Prete, presidente Autorità Portuale di Taranto, di Giovanni Puglisi, presidente del distretto della logistica pugliese, Gianfranco Visicchio, presidente Conf Cooperativa Puglia, Stefano Pedone, branch manager di Evergreen Italia, Massimo Tavolaro, presidente centro studi Anita Puglia Bari e Giovanni De Meo, logistic manager che ha coordinato l'intero evento. La sfida, lanciata dalla provincia, che ha finanziato sette corsi di formazione per tecnico della logistica, nonostante la crisi e la complessità della situazione di Taranto, è stata raccolta dall'Asformez, ente di formazione professionale guidato da Vita Maria Epifani, che da oltre un decennio costituisce una solida opportunità per tutti i giovani che vogliono aumentare il proprio livello di professionalità. Quanto è importante l'attività della Sformez nell'ottica di fornire quegli strumenti che servono ai giovani per confrontarsi con il mondo del lavoro? In un momento di crisi come questo è importante. Noi sappiamo che i giovani, quando escono dalla scuola, dagli percorsi di studi canonici, che sia scuola o università, spesso trovano la difficoltà di incontrare le aziende disposte ad accettarli e a fornirli sia pure una possibilità lavorativa. La Sformez ha come compito principale, come mission, quella di collegare il mondo della scuola con il mondo del lavoro. Attraverso i nostri percorsi formativi, che si sviluppano per la maggior parte dei casi con un periodo di naula, dove i ragazzi apprendono le nozioni teoriche ma anche pratiche, si accompagna sempre un periodo di stagione azienda. Ogni ragazzo ha la possibilità di confrontarsi con il mondo del lavoro e di mettere in pratica quello che studiano, quello che hanno imparato in aula, attivamente nel mondo del lavoro. Il corso di formazione proposto dalla Sformez ha intercettato un nuovo trend, che si spera possa condurre, nei prossimi tre anni, ad importanti e concrete opportunità di lavorativa nel settore logistico e dei trasporti, considerato il principale motore di sviluppo del nostro Paese. Un plauso all'iniziativa è giunto dall'On. Giacchino, che nel suo intervento ha sottolineato come l'inefficienza logistica del nostro Paese sia una delle cause principali della minore competitività e della conseguente minore crescita economica degli ultimi 15 anni. Da qui, la necessità di concentrare sforzi e risorse sul completamento del piano della logistica, potenziando la rete dei trasporti della penisola. Al centro del discorso di Giacchino, la rete ad alta velocità, lo scarico merci e la rete portuale, che soprattutto nel meridione necessita di potenziamenti. La Regione Puglia deve fare squadra mettendo in rete l'importante porto di Taranto, quello di Bari, le sue strutture logistiche retroportuali, la rete ferroviaria, la rete autostradale, le imprese di logistica e di trasporto pugliesi, anche quelle della Basilicata, perché sono interessate rispetto a questo bacino, e come dire, lavorare ad un piano della logistica territoriale in cui si elenchino le cose da fare per recuperare competitività logistica a questo territorio. D'accordo con quanto espresso dall'onorevole Giacchino, anche il sindaco Giovanni Gugliotti e il presidente dell'autorità portuale di Taranto, Sergio Prete, per i quali il convegno ha rappresentato una concreta possibilità di confronto sul tema logistico, che vedrebbe Castellaneta in una possibile posizione centrale. La logistica è un settore molto importante, è un tema che vada approfondito ed è forse anche la sfida per il futuro. Il nostro territorio può diventare punto di riferimento non solo per l'intera provincia, ma anche oltre, e lo dico non come frase di circostanza perché oggi c'è il convegno sulla logistica, ma perché già da tempo, ancora prima che io fossi eletto sindaco, c'era quest'idea di sfruttare quello che noi abbiamo e che altri non hanno, vado subito al punto. Noi abbiamo uno scalò merci delle ferrovie dello Stato, che di fatto è l'unico degno di questo nome, fra Taranto e Bari. In tutto caso questo scalò merci è al ridosso dell'uscita dell'autostrada, c'è la zona industriale di Mottola e ci dovrebbe anche essere in futuro la zona industriale di Castellaneta. Quindi si creerebbe un punto di interesse, non solo dal punto di vista industriale, ma proprio dello scambio delle merci, che credo possa veramente fare la differenza per tutto il territorio. La sfida è metterlo in collegamento con il porto di Taranto. Ed ecco perché io sono venuto veramente con molto piacere qui stamattina e sto già dibattendo con il presidente dell'autorità portuale, con l'amico Sergio Prite, con il quale abbiamo un discorso già avviato da tempo. Se si riesce a vincere questa sfida è una vittoria per tutto il territorio. Creare delle professionalità che nell'immediato futuro possano contribuire al rilancio territoriale è molto importante, quindi sicuramente l'iniziativa è apprezzabile e è importante appunto che probabilmente forse anche dal loro contributo ci sia la possibilità che il livello industriale, imprenditoriale e locale possa fare dei passi in avanti per contribuire alla crescita del sistema logistico che come è stato evidenziato oggi è fondamentale per la ricchezza di un territorio. Prospettive importanti dunque per l'allievi della Sformez che hanno avuto occasione di stabilire contatti con gli operatori del settore costruendo a piccoli passi quello che ci auguriamo possa diventare il loro futuro professionale.